Esprimo la più profonda preoccupazione per quanto riguarda la situazione in Sudan, la quale è palesa non soltanto un'emergenza umanitaria di notevoli proporzioni con l'ha mancato anche accesso al cibo, ai servizi essenziali per molioni di persone, ma a una destabilizzazione perdurante in un'area già particolarmente critica come quella dell'intero Sahel, particolarmente esposta anche alla permeabilità della presenza russa in termini di apparati paramilitari come il gruppo Wagner, così come anche di intelligence e di possibile anche controllo statale se allora dovesse radicarsi appunto un nuovo colpo di Stato a seguito di queste violenze, il che ovviamente porrebbe un paese strategico in una posizione assolutamente di rilievo all'interno di una faglia potenzialmente molto pericolosa per la nostra Europa. Questo è un esempio di come bisognerebbe cambiare assolutamente il paradigma, dobbiamo anticipare queste crisi, soprattutto cercare di impegnare con un dialogo preventivo sostanziale le controparti sul terreno, onde evitare di essere sempre reattivi e poco proattivi. L'Unione Europea quindi deve essere molto più presente, deve avere la capacità di poter dialogare, di poter costruire anche con delle condizionalità efficaci, ma con anche un impegno in termini economici, umani e politici molto molto più pervasivo, molto più efficiente, un nuovo rapporto in quest'area così cruciale per i destini del nostro pianeta e dell'intero continente africano. Non smetterò, non smetteremo di batterci e di spingere in questa direzione.